Sono Giorgio Di Palma e sono di Grottaglie. Lavoro con la ceramica da due anni e riproduco oggetti di uso quotidiano ma li rifaccio in ceramica. Non ho mai studiato arte, non ho mai lavorato con la ceramica, anche avendo un padre ceramista. Sono lavorato in archeologia e ho vissuto all'estero per un sacco di anni. Due anni fa ho detto torno a Grottaglie dove c'è un quartiere completamente pieno di botteghe, forse anche saturo. Ho detto provo a fare qualcosa ma qualcosa di mio. Per i tre oggetti che hanno segnato in qualche modo la nostra infanzia, quindi vado a toccare un po' nell'animo la mia generazione, quella degli anni 80 più o meno. La macchina da scrivere, joysticks, sono tutti oggetti che in qualche modo abbiamo vissuto personalmente. Oggi compriamo di tutto pensando che sia per sempre e che sia indispensabile. Poi ce ne dimentichiamo, quindi ho deciso di riprendere tutti questi oggetti, di renderli eterni attraverso la ceramica e di farli partire già come inutilizzabili. Penso che Grottaglie sia una città che comunque abbia delle grandi risorse, soprattutto dal punto di vista dei giovani. Qui ci sono delle splendide realtà. Grazie volevo dire che Grottaglie è not normal perché prova ad essere il più normale possibile.